L'ok di massima da parte del Supervisory Board di Francoforte è arrivato nelle scorse ore. Per l'ufficialità però c'è da attendere ancora qualche giorno. Sarà infatti l'8 dicembre la data in cui la BCE si pronuncerà definitivamente sulla cessione di 3 delle 4 Goodbank a Ubi, colosso bergamasco del credito che da mesi è in stretto contatto con il presidente della Nuova Etruria, Marche e Carichietti Roberto Nicastro per concretizzare l'acquisto degli istituti di credito nati dalla messa in risoluzione dei vecchi. Si tratta di una proposta articolata, quella di Ubi, che comprende lo scorporo delle sofferenze maturate dalle nuove banche e la possibilità per Ubi di contabilizzare crediti fiscali maturati. Gli incontri avvenuti nelle scorse settimane tra Ubi, Banca Italia e BCE avevano già permesso di chiarire alcuni punti, tra i quali quelli più controversi, spiegano alcune fonti. La decisione di Francoforte sarebbe però ancora soggetta ad alcune verifiche. Intanto i rimborsi ad azionisti e obbligazionisti stanno arrivando a rilento, ad essere stati risarciti attraverso le pratiche stabilite dal governo e attingendo risorse dal fondo interbancario sono stati 4.000 dei 130.000 azzerati.